Ciao a tutte ragazze, bentornate. Il video di oggi, come avete potuto vedere dalla foto iniziale, è dedicato ad una ragazza che mi ha modificato una foto. Qui su YouTube ha due canali e ha anche un sito Facebook e un sito internet. Vi lascio tutti i suoi link in modo che potrete conoscerla anche voi perché è bravissima e merita davvero tanto qui su YouTube, merita davvero molti più iscritti. Se vi va, passateci perché i suoi make-up digitali sono fantastici, sono bellissimi, quasi più belli di quelli naturali perché si sa sono perfetti. Io le ringrazio tantissimo per la foto che mi ha fatto, che mi ha creato, ve la faccio rivedere al termine del video, è davvero stupenda. Quindi ringrazio Valeria per il video che mi ha dedicato. Se non l'avete ancora visto, vi lascio il link del video dove modifica la mia foto con Photoshop in modo che potrete vederlo anche voi, vedere la bravura di questa ragazza che merita davvero tanto, ripeto. La saluto, ciao Valeria, grazie ancora. Iscrivetevi al suo canale perché è bravissima, ci saranno anche tanti altri lavori che farà. Organizza anche dei giveaway dove regala dei make-up digitali al quanto pare, poi vedremo se ne farò anche io uno in collaborazione con lei. Io saluto tutte voi e vi ricordo che ho un giveaway aperto, quindi se volete partecipare potete farlo e al prossimo video ragazze. Ciao, un bacione! Grazie a tutti!